Ci potrebbero essere i problemi psichiatrici di un 44enne alla base della lite sfociata in accoltellamento all'interno di un appartamento di Via Lazio 61 a Montesilvano. Il figlio della vittima avrebbe così sferrato una decina di colpi con un coltello da cucina alla madre 65enne che successivamente ha avuto la forza di chiamare aiuto e contattare il 118. È stata trasportata all'ospedale di Pescara e sebbene non sia in pericolo di vita ha riportato diverse ferite alla schiena che le hanno causato anche il perforamento della pleura, ragione per la quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Anche il figlio della donna è stato trasportato in ospedale sia per la medicazione di alcune ferite provocate dalla colluttazione ma soprattutto per un consulto psichiatrico specialistico anche per accertare le cause dell'aggressione. Ora è piantonato dai carabinieri della compagna di Montesilvano che stanno indagando per accertare le cause del gesto.